Ciao amici! Avete visto cos'è arrivato nel mondo pinnipon? E' la stanza di acquaria, la streghetta più potente e viene con un sacco di accessori e sorprese magiche. Volete che lo apriamo? Sì! Vediamo quanti mobili diversi e guardate tutti questi accessori, la sua scopa, la bacchetta e tanti adesivi per decorarla. Li mettiamo? Che forte! Quanti pipistrelli, acquaria è così coraggiosa che non le fa paura dormire in un letto fatto così. E per ultimo l'armadio. E' un mobile molto speciale, perciò gli mettiamo questi adesivi così brillanti. Dovremmo riempirlo, no? Così è molto meglio. Uh, stavo dimenticando la cassa. Acquaria? Oh, mi piace la mia stanza. Lo avete decorato benissimo con questi adesivi. Ragazze, avete visto che look stupendo che ha? Con questo colore, quale credete possa essere il suo potere? Io credo che le escono raggi laser dagli occhi. Sarebbe bellissimo! Siete d'accordo ragazze? Ma che stupidezze dici? Io credo che il suo potere è la invisibilità. Credevo che parlaste di me. Volete sapere qual è il mio potere? Sì! Beh, ve lo mostrerò. Però prima ho bisogno della mia bacchetta. Qualcuna l'ha vista? Potrebbe essere questa. Sì, questa è la mia bacchetta. Eccola qui. E adesso sì, posso dimostrare tutto il mio potere. Acqua Pluvium! Oh, sta piovendo! Lo ha fatto Acquaria? No, mi si bagnano i capelli! Fermala! Non vi piace la pioggia ragazze? Non succede niente. Acquanyx! Oh, oh! Sembra che stia arrivando una tempesta. Prrrr! Che freddo! Ah ah ah! Solo era uno scherzo. Però sembra che adesso tutte sappiamo qual è il mio potere. Sì, puoi cambiare il tempo. Beh, fai che sia già estate. No, non solo questo. Posso controllare l'acqua in tutte le sue forme. Comunque, non parliamo solo di me. Io volevo mostrarvi la mia stanza. Sì, vediamolo! Mostracelo! Acquaria tutto in ordine. È la streghetta più potente e sa che deve dare l'esempio. Vuoi dire che siamo disordinate noi? Non volevo dire questo. Ah, vi ricordate dell'armadio? È magico e solo si apre con la bacchetta giusta. Quella di Acquaria, chiaro! Wow! E tutti questi libri di chi sono? Sono libri di ricette con le pozioni più potenti del mondo. Ah, avete visto che letto comodo? Dopo aver fatto tante pozioni e incantesimi, tutti sarebbero stanchi. Eh, però adesso non ho sonno. E quest'altro letto piccolino di chi è? È di Betty. E chi è Betty? La mia gattina. A proposito, l'avete vista? Non mi pare. No, ma non deve essere molto lontana. Eh, ciù! Ho un'allergia terribile. Eh, ciù! Betty? Betty? Sei lì, Betty? Ti? Guarda, sei lì! Sembra che Betty abbia incontrato il suo lato favorito della casa. Oh, è così carina! Eh, sempre aggrappandosi. Credo che se voglio che usi la sua stanzina dovrò metterla su un albero. Beh, ragazze, vi è piaciuta la stanza di Acquaria? Sì, che fortunata! Voglio un armadio magico e ancora più pieno di pozioni. E a voi? È piaciuto questo nuovo set? Acquaria è una stanza magica di tutto, vero? Mettete nei commenti quello che vi è piaciuto di più e iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le novità del mondo Piripon. Alla prossima! Ciao! Grazie a tutti.